Con tanti disegni, affreschi, appunti. Era anche maestro di grandi feste, di cerimoniale. Questa sera sarebbe stato proprio bene qui. E anche la prima edizione in assoluto, sempre l'edizio Princeps, delle epistole di Cicerone ad familiares. Abbiamo fatto, perché sarebbe quasi il centro di Ciclione, costituiti di cui vengono, sono costituiti da stelle. Non lo faccio sempre, perché avevo le cene di cui vengono, pensate. Abbiamo anche messo in interesse, che con due tanti testi, c'è il centro di Ciclione, la prossima inizia, che già c'è la data. La manifestazione della nostra realtà di Foligno è la manifestazione più importante a livello europeo, e di voi manifestazione l'Umbria. La collaborazione con l'Associazione del Disegno Industriale, con Luciano Galimberti e tutto lo staff di Adi. È stata un'opportunità, abbiamo un po' chiamato all'Umbria Experience, perché abbiamo raccontato una parte della cultura, dei nostri festival. Il presidente dell'Adi. Il presidente dell'Adi. Il presidente dell'Adi. Grazie a tutti.